Sicuramente dal punto di vista turistico, tra l'altro il numero di persone che vengono, non è un fatto irrilevante. Quando io discuto con i manager degli hotel milanesi, mi dicono che il fatto che sia in Champions o meno fa la differenza, per cui è già da quel punto di vista lì importante. E poi, insomma, a Milano le cose stanno andando bene. C'era una che non andava così bene, con le due squadre di nuovo in Champions. Io mi auguro che l'Inter vada avanti l'anno prossimo, che non è automatico. Però mi auguro anche che il Milan ci torni prestissimo, perché sarebbe veramente il sogno. Ecco, prima della fine del mandato vorrei vedere l'Inter e Milano insieme in Champions e un po' avanti. Grazie. 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 Grazie.